Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme e ben ritrovato, era un po' di tempo che lo cercavo di convocare qui in trasmissione Alessandro Gerotto, presidente del Lancia Costruttori Edili di Padova, grazie di essere qui con noi, in realtà è stato impegnatissimo in giro per l'Europa o per il mondo addirittura, possiamo estendere i confini, quindi da una parte all'altra per motivi naturalmente lavorativi, non certo di piacere e intanto sono maturate tante tante questioni che comunque sono state seguite e commentate anche da parte sua, per cui è sempre stato presente e proprio partendo da questo facciamo un po' l'ultima cosa in ordine di tempo, l'ultima notizia in ordine di tempo che riguarda i soldi del PNRR, se ne è parlato perché in generale l'Italia sembra essere un po' in ritardo nell'avvio di queste opere per le quali sono state stanziate dei soldi, punto stato dell'arte, punto della situazione per quel che riguarda la realtà e in che modo vi vede coinvolti, perché sappiamo che il PNRR per lo più è rivolto a opere infrastrutturali, anche per quel che riguarda la sanità, non è la sanità in sé per sé, sono opere infrastrutturali che riguardano una ristrutturazione della sanità, tanto per fare un esempio e così via. Ma per essere più precisi stiamo parlando di circa 200 miliardi che dovranno essere investiti in Italia, di questi 200 miliardi, 100 sono opere che riguardano l'edilizia, quindi ancora una volta l'edilizia è il motore sicuramente del PIL e lo dimostrano i dati che sono usciti da poco da Prometea e si parla nel 2022 di un PIL sostanzialmente veneto del 4,2% che è veramente un'enormità, stiamo parlando di circa 180 miliardi che il Veneto produce per tutta la nazione italiana e se questo vado a compararlo sostanzialmente a quelli che sono i soldi che arriveranno nel PNRR in Veneto che sono circa poco più di 6 miliardi, di questi 6 miliardi, circa 1,2 miliardi saranno destinati alle opere di trasporto, alle opere di connessione tra i vari paesi, poi abbiamo circa 800 milioni per l'istruzione e come diceva lei la parte della salute che incide per circa 670 milioni, la domanda vera è come faremo a spenderli tutti in così poco tempo, più che altro a spenderli tutti, a realizzare qualcosa di concreto perché poi spendere purtroppo si spende anche facilmente, però dopo ci sono tutti gli aspetti organizzativi, logistici, poi interveniremo anche nel merito specifico perché si parlerà anche di appalti immagino. Sì appunto, è per questo che oggi volevo fare un po' un riassunto dopo un mesetto circa che manchiamo dalla trasmissione parlando del nuovo codice appalti, parlando sicuramente delle cessioni dei crediti e parlando ancora una volta del caro Materie Prime perché tutte queste cose ruotano attorno ai soldi e agli investimenti che arriveranno dal PNRR che ripeto saranno parte investiti nell'edilizia, però ovviamente l'edilizia funziona che man mano fa i lavori e man mano ci sarà anche il pagamento del lavoro, quindi non sfattiamo il fatto che si possa spendere così a mano larga. Quindi è interessante farvi capire, l'azione del Lance negli ultimi due mesi è stata estenuante, noi abbiamo la rappresentatività nei nostri uffici di Roma tramite la nostra Presidente la Federica Brancaccio, ieri sera l'ho vista che era addirittura sulla trasmissione vostra concorrente in Rai. Grazie per essere concorrente in Rai. Io reputo che voi fate il vostro lavoro nel territorio e ovviamente la Presidente nazionale ha ovviamente un bel sacco pesante da portare perché ci rappresenta tutti e in maniera igreca. Però rappresenta molto quest'anno, in modo particolare da quando è diventata Presidente, via crescente. È tenace e soprattutto conosce bene i temi. Poi su Roma saper dialogare sicuramente con la politica, ma anche con gli uffici che stanno di fianco alla politica, cioè tutti quei funzionari che poi fanno succedere le cose, perché il politico sostanzialmente ti dice sempre di sì o di no, però poi il lavoro vero, il lavoro sporco lo fanno i funzionari e i sub funzionari che effettivamente in questi mesi hanno lavorato tantissimo. Io vedevo proprio chattare ogni giorno e a ogni ora anche della notte, la nostra Presidente e tutta la struttura con la politica, con i vari parlamentari, parlavano che hanno fatto firmare emendamenti a tantissimi parlamentari, a più di 300 parlamentari per andare a supportare tutta quella lotta di lobby, ovviamente positiva, politica nostra dei costruttori, per andare a fare adesso delle norme che siano sempre più centrate, soprattutto riguardo alle nostre necessità, che è quello di fare i lavori velocemente, di essere pagati nella maniera corretta e soprattutto evitare infiltrazioni mafiose all'interno dei nostri cantieri, che ahimè sono anche un tema della nostra provincia, e cercare soprattutto di fare lavorare le aziende sane. Questo è un altro aspetto. Allora, step by step, per quel che riguarda i soldi del PNRR, questi arriveranno e però ci troviamo con diverse progettualità ancora in alto mare, così? Allora, le progettualità magari ci sono, però ci sono, magari sono vecchie e quindi avranno bisogno di qualche aggiustamento, però dove c'è la difficoltà sono soprattutto sui rapporti, per esempio dovuti al dialogo con la parte ambientale, alla salvaguardia ovviamente della parte artistica, come vediamo verso Cortina, il 2026 si avvicina, però devono ancora fare delle gallerie lunghe 11 chilometri, non si sa esattamente se non cominciano e non finiranno mai. E quindi è difficile capire dove sia l'intoppo. Poi bisogna parlare con i residenti, per esempio, del posto, che sicuramente hanno una forma democratica di protesta che va, diciamo così, calmierata. Quindi ci sono tutti questi problemi tipici della nostra Italia che stanno facendo rallentare le opere. I soldi ci sono, però ovviamente devono essere spesi nel più breve tempo possibile. Ci sono dei termini? Ci sono dei termini, sicuramente per Cortina è l'inizio delle Olimpiadi, per altre opere secondo me ci sarà da capire, magari possiamo aspettare di ristrutturare dei borghi antichi, ma magari cercare di accelerare quelle che sono le vie dell'acqua, visto che siamo in tema di siccità, stiamo forse sottovalutando quello che succederà nei prossimi mesi, perché sta indietreggiando il cuneo di acqua dolce a favore del cuneo di acqua salata e questo sta provocando sicuramente nelle culture un tema di grave siccità. Poi abbiamo un grave problema relativo agli acquedotti che hanno delle perdite enormi e quindi bisogna lavorare per cercare di incitivare magari anche le tecnologie che possono velocizzare le riparazioni e l'individuazione di queste perdite, perché si narra che in Italia abbiamo quasi il 40% di perdite, quindi noi spendiamo soldi per intubare l'acqua e poi più del 40% viene perso. È una corsa contro il tempo, secondo me sì, vale la pena concentrarsi adesso dove vogliamo spendere questi soldi. Poi abbiamo i nostri torrenti, i fossi che sono asciutti, quindi ci domandiamo come diamo da bere ai nostri campi. Questo è un altro capitolo abbastanza delicato. Quindi alla domanda soldi ce ne sono? Sì, cominceremo le opere. Se aspettiamo ancora un po' probabilmente avremo qualche problemino. Di sicuro sta avanzando la parte infrastrutturale ferroviaria, quindi da Verona, Vicenza, verso Padova e verso Venezia. Sono già stati appaltati i passanti, quelli verso Mestre. Immagini che bello, se arriverà direttamente a Venezia in aeroporto, si può prendere il treno e arrivare a Padova in comunità. Questo vuol dire essere sempre di più internazionali e magari cercare di muovere la tecnologia. Stiamo parlando di settore costruzioni che è molto ampio, ma lavori anche molto particolari di scavazione di tunnel sotterranei, di andare con dei macchinari particolari, per esempio per il discorso dell'acqua. Insomma, creare delle opere infrastrutturali ingegneristiche di alto livello, ovviamente, perché poi tali devono essere. Che riguarda anche poi direttamente la struttività professionale e lavorativa. E quindi per quello le faccio anche la domanda. Ma secondo lei, per fare tutte queste opere che sono anche particolari, richiedono delle progettazioni molto attente, delle valutazioni, certificazioni. Ci vogliono tempi anche però, per quello di continuare a dire ci stiamo. C'è anche quest'oggi la politica regionale manifestato preoccupazione, perché effettivamente non stiamo parlando di tirar su una casa. Per quanto complicato possa essere, ormai si conoscono le tempistiche che ci si riesce. Qui altre opere che potrebbero essere di trivellazione, insomma. Allora, le ditte sostanzialmente ci sono. Sono molto occupate. Qui avremo bisogno di ditte molto specializzate, le classiche OG6, OG7, OG8. Opere specialistiche che avranno bisogno di andare a tutelare la stabilità dei nostri terreni. Si immagini solo che, per esempio, Cortina e tutta la parte del Bellunese non ha solo lavori in gallerie, ma ha sistemazione di alvi fluviali, ha il tema delle scavazioni delle dighe, ha il tema della pulizia di determinati condotti che sono alla base di altre costruzioni. Cioè, noi non possiamo costruire dei parcheggi o degli alberghi se prima non vado a stabilire una sicurezza idraulica, soprattutto di quei versanti che da anni adesso sono lasciati ormai al degrado. Diciamo che il Vaia ha dato un grande spunto, un grande imprinting al Bellunese, perché comunque ha generato lavoro, ha permesso delle lavorazioni che prima erano immaginabili, qui ha dato una velocità enorme. C'è il grande tema di come dialogare con i locali e chi abita quelle vallate per rendere attrattive, per sistemare la parte del traffico, perché è un disastro la zona di Longarone e di San Vito. E poi bisognerà coniugare soprattutto che cosa faremo dopo che le Olimpiadi sono finite con queste strutture. E guardi che è un tema enorme quello di andare a rimpiazzare o avere delle idee per fare questo. Io credo che la Regione sta lavorando e non ho dubbi, anche a livello serrato. La nostra parte è quella di dare delle società sane che possano fare queste lavorazioni nei tempi prestabiliti. Allora, a proposito di stanziamenti economici che, come diceva lei, ci sono, però tutto è legato naturalmente a quanto mi costano, quanto mi costa la materia prima, tutte le materie prime, voi lavorate in modo particolare con materie prime che hanno avuto dei rincari rilevanti. Adesso alcune sembra ci sia una leggera flessione, altre no, insomma tutto un anno di rivieni di un certo tipo. C'è stato un adeguamento a livello regionale del preziario, ma questo riguarda anche i lavori che saranno necessari intraprendere col PNRR e quindi i prezzi saranno adeguati. Ci spieghi un attimo anche? Sì, soprattutto in riferimento al nuovo codice degli appalti. La revisione dei prezzi dovrà essere prevista su tutti quanti i prossimi lavori e dovrà fare riferimento ai prezzari regionali. È appena uscito, lei è stata molto intelligente ad uscire con questa notizia, è uscito da pochi giorni il nuovo preziario che è composto da oltre 16 mila voci. Ance Veneto e Ance Padova ha lavorato in maniera importante per andare a creare quelle analisi insieme alla regione e ad aiutarli a trovare quelli che sono i prezzi più corretti, soprattutto delle materie prime che hanno subito degli aumenti importanti. Attenzione, non sono finiti qua gli aumenti, è vero che il gas sta diminuendo? Ma c'è una percentuale, è stato stabilito un 80% di rimbosso? Allora, sopra l'8% come soglia viene riconosciuto l'80%. Sa, va benissimo, noi stavate sopra il 2% però. No, no, va benissimo questa soglia, però quello che sta succedendo è che per esempio dite come le nostre che stanno acquistando il materiale per il 2024 perché sostanzialmente il 2023 è già organizzato, notiamo da parte di chi ci vende il materiale, ogni tributo trimestre dell'anno prossimo avrà un incremento del 5% minimo e quindi noi ci troviamo a dire ma come è possibile una cosa del genere? Soprattutto come faccio adesso a fare delle offerte per l'anno prossimo? Quindi quello che è reale è che il preziario verrà aggiornato ogni 6 mesi, ogni anno, ci sarà un tavolo permanente e ci sarà la possibilità di andare a correggere quelle che sono le voci che in maniera oggettiva hanno degli aumenti che sono sconsiderati. È chiaro che la parte negativa è che l'opera avrà degli incrementi di costo e questi devono avere, deve esserci un dialogo aperto del tutto naturale con la controparte per cercare di non fare mettere in difficoltà l'azienda che sta lavorando ma anche concludere l'opera nei tempi necessari. Allora torniamo su questo discorso qui che mi ha lasciato interdetta, c'erano altri aumenti, uno resta un po' così. Abbiamo una pubblicità che è in come, questo dovete scrivere, approfittatene, in pochi secondi poi torniamo insieme.